Per capelli delicati e cuta e sensibile, Garnier crea il più dolce degli ultradolce. Nuovo Delicatezza d'Avena, con latte d'avena per lenire la cute e crema di riso per idratare i capelli. Anche i più delicati, senza appesantirli, i capelli ritrovano il loro comfort e voi la voglia di lasciarvi accarezzare. Ultradolce Delicatezza d'Avena, Garnier.